signori siamo tornati signori finalmente siamo tornati qui sulla minecraft pixel mon buonasera tutti siamo tutti pronti vero voi siete pronti però che voi siete pronti signori non lo sapremo mai voi siete pronti signori io sì la mezz'ora signori noi prima di cominciare vi ricordo di passare dai miei social la chiesa per buon augurio prima no ormai siamo già metà strada e praticamente ci siamo qua metà strada ok signori questo è il nostro and no non possiamo trascendere no allora non entriamo a dentro frisk frisk dicevo allora vediamo di cominciare a esplorare d'acqua ragazzi qui è sempre il vostro editor di fiducia che vi parla un paio capo il fabbro ragazzi colgo l'occasione per ricordarvi di iscrivervi al nostro canale youtube e vi volevo spiegare cosa è successo e perché avete visto quella per quel cartello con il tp bene molto spiegato molto chiaramente nel mondo l'abbiamo generato con una mod il fatto che il mondo giustamente l'avamo generato prima di creare il server quindi abbiamo usato la mod abbiamo esplorato un po e abbiamo usato la mod diciamo per il mondo per esplorando il mondo e poi ovviamente alcuni c'è anche non si sono caricati se quindi l'endo dovrebbe stare sotto appunto quei cartelli ma per un paio di generazione appunto non si sono non si è formato ecco quindi ci siamo tippati in delle coordinate a caso molto alte se no giustamente ci segnava sempre il nostro hand anche da casa mia che dovrebbe essere quella più lontana e quindi diciamo abbiamo trovato l'hand e appunto per evitare di doverci fare la strada ci abbiamo messo il cartello quindi ciao signori prima di attivare il portale vi chiedo di fare due cose vi chiedo di andare nell'audio e attivare la musica e aumentare le creature ostili al massimo no non penso che le farò le creature ostili no fidati fidati gli endermen non li abbiamo modificati neanche l'ender dragon però dovete farlo fidatemi di me per una volta musica 50% io so già che cosa è andrei andrei sei messo per il ornitorinfo allora aspettate creature ostili al massimo la musica la devo abilitare anch'io va benissimo potete attivare il portale basta che non entrate se mi fai cadere nella lava ci saranno due portali nel senso che chiapra a metà lo so è per il livello in viso è difficile capire ragazzi 3,2,1 ragazzi ho sponato sotto ah no ok scherzato eh no loro no oh grazie per le frecce chi è che me le ha date ma chi è entrato dentro vai vai che entramo grazie per le frecce perché fare sta cacata quando possiamo fare così scusi vuoi rischiare di cadere nel vuoto quando possiamo salire buongiorno eh guarda che se l'ender dragon ti beccava cadevi nel vuoto e p***a la roba quindi non è che è stato ma che è perché mi attacchi ma lo fatti li agrare ma io non li ho guardati ti attaccano a casa io voglio stare l'ender dragon che sono ok vai allora iniziamo da boda questo raga io faccio questo qua con le chiavi io faccio pure io quella con le prigioni con le chiavi raga io intanto sopra ne distruggerei raga ma a che serve il suono scusa io io so ok easy eh serve dopo voi fidatevi di me vabbè quando finisce la mia raga raga io imploderò male è stato bello ok no raga io ho preso il cristallo con l'ender dragon raga ma io sono senza blocchi di fronti non me ne sono portati ok ho preso un altro cristallo raga manca ed è qui che arrivo lo spider man di fiducia andrei viene qua andrei vieni qua pyter man spider man eccoli uno stack eccolo qua andrei dietro vabbè teni me andrei dietro 翡idi avrei altri no no tranquillo io adesso salgo qua che quello sulla torre dove sto io mica dove sto io se l'avete spaccato vedete c'è un cristallo quello più alto con la torre più vado a prendere io raga lo prendo io vabbè noi lo archiamo intanto raga poi appena scende gli facciamo i danni sgravi non ha sparato raga non ha sparato fermi allora come cazzo ci faccio mi manca proprio due bocciate raga ma siamo io sono incapace con l'arco raga perché io sto coso che gira mannaccia si fa le rotazioni no no è del gioco mi piaceva così sì sì ma noi siamo dei pro player con l'arco l'abbiamo sempre detto vero ragazzi ma l'ender dragon è normale ma è troppo in alto ho preso l'ho preso oddio qualcuno lo coglie signori aiuto attenzione ma tutto questo mi si sente sì sembra di sì io non riesco a prendere qualcosa ma faccio f3b per la hitbox oddio signori un chat mi hanno detto di fare f3b signori fatelo anche voi cazzo ma è sgrava come cosa fermi andrei finisce lo tu vai per la pixel ma non vedi che c'è l'hitbox del drago ma non sapevi che si potano vedere raga ma muoio ma io sto volendo ma perché state morando no è la maledetta cosa raga ma io sono morto apposta raga allora voglio prima prima una cosa prima di prendere l'uomo raga qualcuno qualcuno mi caga il problema è che come sempre parlano da sopra ecco grazie voglio prima far notare che gabbro ha fatto fuori dalla nostra paluta ender dragon come prima cosa aspero l'avevo visto ok raga mi potete dare un attimo la torcia e non ne ho e non lo abbiamo raga ma stanno qua deficienti è vero e vabbè capita oh io non mi ricordo queste cose l'ultima vanilla l'ho fatta qualche mese e ora di figliare questa mi ricorda la scena del secondo film in cui c'è tipo la vai fatela anche voi di situazione mi sembra che ci aziona con 3000 orchi tipo con 3000 orchi grazie comunque grazie del consiglio delia lasci ma io te l'avevo pure detto cioè parlavamo con giù il fatto di sì ma vabbè non andare ancora nel portale no no dobbiamo allora non possiamo andare nel land allora avete abilitato la musica avete abilitato le creature ostili aspetta un attimo abbiamo l'ho fatto tutto conserviamo l'uomo dopo ritorniamo nel land per andare per andare di là ok andiamo a vedere l'elitra e così via ok mettiamolo allo spawn l'uovo la cosa è più bella siete pronti signori mettiamolo allo spawn 2 1 si si dopo signori signori questa signori questo è stato e sarà anche minecraft pixelmon la vanilla e lei leggiamo anche i testi maz che succede hai battuto l'ender dragon persona che sto leggendo i pokemon in questo caso io sì perché perché non è finita qui signori non è finita ti sbanno subito comunque aspetta un attimo dovrai continuare la tua avventura in un nuovo mondo i nuovi biomi da esplorare e nuovi armi da craftare non lo spas tranquill donald bastard non nominare lo spas donald fuori dalla mia lore sicuro sicuro sì è sicuro signor maz dicevamo il pokemon 54 in questo caso per me ci rivedremo e tu mi dirai tutto ma perché ho attivato i suoni chi mi ha chiamato fuori bastard perché è sempre il nostro donald ok se vedemo sei pronto per questa nuova avventura io sì sono pronto ok se vedemo in una nuova avventura in realtà no ma sì ok ti ho annullato la sospensione comunque Andrea lasci signori signori abbiamo abbiamo questo è la sorpresa che volevo fare anche ai nostri giocatori non glielo ho detto niente tranne giochi e lo sapeva perché l'abbiamo fatta insieme eh mi dispiace vabbè il resto lo posso schippare sì 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 perché il resto sono i credit di minecraft speciali no hai defattato vabbè vabbè ma perché hai visito vatti in giro tanto c'eravamo noi oh ragazzi ragazzi io sto laggando male infatti ho laggato anch'io no mi sto laggando male andrei per me almeno questo ti prego ti voglio bene uno no no raga per favore ma no ragazzi no al posto dell'ultimo ci fai comunque mi sa che sta laggando leggermente il server sì sta laggando un po' ok adesso non tocco il nome più lasciatelo là per sempre infatti io sto sotto il portale della serie non si tocca della serie vendo forse è là è la vista è là fuori sì sì eccola là raga ma vi siete già zippati voi due sì perché è fresca sta qua vedo ma no basta comunque è divertente che aspettiamo volevo chiedere voi che siete in chat signori vi piace il nuovo countdown del vi aspettiamo e noi stiamo solo distruggendo dell'iscrizione andrei 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 guarda chi c'ho alle spalle e corri dovete legno per caso voi andrei fatto le corri più anticlimatico dell'universo delle cazzo capite c'hai legno c'hai legno uno signori come potete vedere questa è la torre del dottor dufesmith lui vive qui è vero potremmo farlo qua dove cazzo siete raga ma io non vedo ecco voi dufesmith il re del mare pensavo che eravate già qui se chi siamo gabbro me la rifai la clip se vuoi ci riprovo poi ci riprovo ma non ti caratteri che poi faccio rifaccio dream 2 non c'è neanche il secchio d'acqua quindi non c'è il secchio d'acqua basta faccio dream 2 raga per favore una alla volta raga una alla volta è così difficile vai no parkour parkour se l'epoca non doca la parkour è il verso del parkour ci sono ci sono ci sono non c'è sparo raga uccidetevi che io voglio i miei shulker ah io ho bisogno io raga vado vado vabbè teori come vai ce l'abbiamo uno shulker che è la open ender però a parte questo vabbè lo shulker è diverso è più bello è più bello assai quanto è bello salire con gli shulker e chorus è proprio bello no giù è andato a farsi una vita sociale no cosa è successo che è successo l'ha trasportato fuori dalla fortezza mi abbia successo pure a me prima qualcuno mi ritipa per favore che non c'ho voglia di rifarmi tutto a piedi bastardo mi ha preso una ma come mi ha preso vabbè io mi faccio i tali da questi tanto male io non provo più gli shulker cioè i shulker ma che schifo è il parkour dai shulker venite venite ma se non mi prendono vedi siamo in due è naruto benvenuti benvenuti a naruto signori ovviamente se volete potete provare a fare punto esclamativo max o punto esclamativo kirby se volete raga io mi frego tutto il lutto a parte quello che cazzo di lutto c'ha è la palla di astley diamantata eh che fai te ne previ la palla di astley diamantata è è un'opera d'arte la nave dove è esattamente eh prima l'avevo visto ma adesso non c'è più è comparesciuta vabbè raga spacchiamo tutto ah è di qua è di qua ok vieni qua shulker ritami eh c'è la prossima vedrai ah l'ho vista l'ho vista sto dietro frisk stai usando la fly ti devo bannare beh easy 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 ban bastardo mia bastardo dai che bastardi guardate si sono inculati subito guarda bastardo me l'ha rubato sottornato ma se vedi tra i yarder bastardi comunque non vorrei dire tu sei perché tu l'ho vista prima io bastardo in realtà era di di joe l'aveva vista lui per primo la nave però va bene stai proprio sì ma io e Gabriele siamo troppo proclay guardate non mi fa se cazzo di shulker oh Gabriele girati un secondo tene la tasta di drago vabbè si guarda guardami guardami il passo capri qua sto di fronte a te un attimo sto facendo una cosa c'ho l'inventario puoi mettere una crafting se no no è bellissimo è bellissimo oddio che cazzo vuoi mettermi una crafting vuoi mettere una crafting dove stanno vi devo fare raga dove siete siamo nella fortezza ancora è bellissimo è bellissimo è bellissimo quello che ho visto è bellissimo fatemi dare dai 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 come si chiama guardami non sei contento è bellissimo io qua ci muoio raga qualcuno c'ha una crafting sola raga ho caduto dall'ultimo piano non vorrei dire ma sono vivo sai signori grazie per averci seguito in queste live della pizza come avete letto non ci sarà il continuo di questa serie ma se ne farà un'altra ovviamente non presto signori grazie per averci quindi seguito su questa serie vi ricordo se volete passare dai miei social punto esclamativo youtube punto esclamativo instagram e se volete andare sul disco punto esclamativo discord se invece se la youtube sta tutto in descrizione signori noi ci vediamo con una prossima live ciao ragazzi ciao